L'applauso della cattedrale di St. Patrick a New York scatta per tre volte quando Papa Francesco, quasi al termine della sua omelia, per i vespri con i sacerdoti, i religiosi e le religiose, dice un grazie grandissimo alle religiose degli Stati Uniti, sorelle e madri di questo popolo. Cosa sarebbe questa chiesa senza di voi, aggiunge donne forti e lottatrici, sempre in prima linea nell'annuncio del Vangelo. Vi voglio molto bene, aggiunge il Papa, che prima aveva lodato l'opera di tanti consacrati nell'educazione cattolica e poi aveva ricordato le sofferenze della vergogna sopportata a causa di tanti fratelli che hanno ferito e scandalizzato la chiesa nei suoi figli più indifesi. Parlando dello spirito di laboriosità, infine Papa Francesco ha messo in guardia dal rischio della spiritualità mondana che ci indebolisce nel cammino. Il pericolo è rimanere intrappolati dal criterio dell'efficienza, che non è un'unità di misura del nostro apostolato, oppure di diventare gelosi del proprio tempo libero, pensando che i comfort mondani ci aiutino a servire meglio. Questo invece allontana la gente che sta soffrendo per la povertà materiale, ha concluso il Papa, ed è costretta a fare sacrifici più grandi dei nostri. La vicinanza ai poveri ci insegnerà un altro tipo di riposo, più cristiano e generoso.